Buon quincile iscritti Blade 2, allora prima di fare questo video sponsor volevo scusare perché quando Blade 2 è arrivato a 15.000 iscritti io ero senza internet, non ce l'avevo internet e avevo problemi di internet con Vodafone quindi internet è tornato e quindi posso fare lo sponsor Blade 2, salve a tutti amici iscritti oggi facciamo lo sponsor al canale di Yoshi, Blade 2, si oggi facciamo uno sponsor a Blade 2, un canale di Youtube che lo so non è nato nel 2015 e 2014 e Blade 2 è nato nel 29 settembre 2011 Blade 2 ha una pagina community che per adesso Blade 2 non pubblica mai post sulla community e anche delle playlist che Blade 2 fa queste cose, fa recensioni di film dove Yoshi fa le recensioni di film e poi alla fine ha fatto Blade 2 le recensioni di film che l'ultimo è le tartarughe ninja vabbè, poi ha fatto collezionismo e nerd di Blade 2 dove Blade 2 colleziona oggetti di edicola e di qualcos'altro che ha patate di nerd, poi ci sono anche avvisi, discussioni, chiacchiere e pariate, forse ci sarò io nella playlist vediamo, poi c'è anche i fumetti, poi ci sono le sorpresine, i fumetti dove parla di Topolino, hai capito? Le sorpresine dove Blade 2 apre le sorpresine quelle di, allora, San Carlo Junior, ABC della merenda, Lidl, Kinder Sorpresa, Kinder Joy, queste altre cose, sono sorpresine che lui apre, vabbè, poi abbiamo anche le figurine, dove Blade 2 recentisce le figurine dell'album, poi c'è anche i libri, dove Blade 2 recentisce i libri, vabbè, poi c'è anche gli assaggi di Blade 2 prodotti, assaggi di Blade 2, dove Blade 2 recentisce i prodotti che fa veramente assaggiare a Yoshi e l'assistente e per finire l'ultimo programma che sta producendo Blade 2 Blade vs Food, che è una parodia di Man vs Food, questo telefilm stickcom, ha quattro stagioni del 2008 che gli episodi lo potete guardare su Discovery Plus e questo è ispirato a Man vs Food, un programma che lo danno su Real Time e Food Network, poi hanno fatto le live, che non sono ancora partecipato, ma Blade 2 fa le live alle 2.30 di notte e fa forse alle 20, non so se questo live di 15.000 iscritti ha fatto alle 20, vabbè, allora, i video che fa quello che ultimo, Parmareggia e Teneroni, Super Zippy, l'Unitus Part 3 e, mmm, cioè, Blade 2 fa sempre video bellissimi oppure un po', beh, mmm, noiosi come quelli di Topolino che li fa ancora, li fa ancora Blade 2 i fumetti di Topolino, ma solamente solo con le soppesine non fa vedere solo, mmm, quelli fumetti e basta, non li fa vedere più perché Blade 2 ha finito con l'abbonamento Topolino, boh poi c'è, fa anche video della Parmareggia e Teneroni, Super Zippy, l'Unitus Part 3, dove adesso Blade 2 ha 14, mmm, ha 14, no, ne ha 12 di questi, io adesso ne ho 7, a parte che poi lo vedrete nei prossimi video quello, quello della bici della merenda crossata cacao, quella nuova, e la bici della merenda Teneroni la merenda classico, e non prendo ormai, mmm, la bici della merenda con, vabbè, per ora ne ho 7 poi ho visto un video di questo e dicevo che Blade 2 ha trovato una doppia di Silvestro Batman Blade 2, ti rivelo il mio indirizio, via Grazia Deleda 23, 090 60, settimo San Pietro così puoi spedirmi per posta con un pacco di posta Silvestro Batman e aggiungo nella mia collezione della bici della merenda Parmareggia ce lo so, ho doppie di questo, di Titti, ma io, mmm, questa potrei vendere solo una di doppia di Titti, questa, ho due doppie di Duffy Duck Superman, ma io lo conservo, se trovo una terza doppia di Duffy Duck Superman te lo regalo per posta, ok Blade 2? Va bene! anche molti Kinder Joy, molte cose che Blade 2 sa fare, si fa anche spesa tipica di un nerd la spesa tipica di un nerd è Blade 2 che fa la sua spesa, la sua spezzuccia che apre la sorpresa dove è in pratica l'aggiornamento delle collezioni e sorpresine con anche quelli che non sono collezioni sorpresine, cioè queste minifette qua poi sei anni fa ha fatto anche la casetta dei pupassetti dove Blade 2 faceva con gli ovetti dei Minion, con gli ovetti dei Minion e annunciava una nuova serie che si chiama la casetta dei pupassetti che ha appena in verità 3 o 4 episodi, ma la serie è stata cancellata, non si sa cosa l'ultimo episodio dove guardavano il cinema, guardavano il cinema, guardavano i teletubbies forse erano bloccati i copyright, vabbè, non si sa che fino ha fatto le vecchie live di Blade 2, vabbè, ciao e poi ha fatto anche un film che si intitola La vera storia di Pinocchio, film completo che ha avuto 16701 visualizzazioni dove Pinocchio assieme al nono geppetto, cioè un anno, puffetta azzurra andate a vedere il film, prossimamente faccio la recensione video della vera storia di Pinocchio il film completo, prossimamente, se vedete all'opera, dove io recentisco e prossimamente ci saranno tre parti di YouTube, perché La vera storia di Pinocchio ha durato 1,18 prossimamente ve ne parlerò su recensioni video, assieme agli universi remake degli episodi Blade 2 mi ha risposto quando uscirà La vera storia di Pinocchio 2, la vendemmia? Blade 2 ha risposto non lo so, ma speriamo che che poi è il mio video preferito in assoluto di Blade 2, La vera storia di Pinocchio dove c'è questi Teen Idols che dicono ridateci la merenda e Pinocchio e Dinosauretto hanno paura poi Dinosauretto e Lucignolo sono e all'inizio imitano perché non avevano idee dell'inizio capito? era uscito il 31 ottobre del 2017, 5 anni fa stavo scherzando beh è uscito nel gennaio-dicembre ma il film gli do un 10 su 10 speriamo che Blade 2 facesse il secondo capitolo della serie perché ha detto che ai titoli di coda c'è prossimamente uscirà La vera storia di Pinocchio film completo 2 la vendemmia speriamo che non blocchini il copyright bene, la prossima volta del video visivo con il mio tablet che gira che se l'ho registrato una settimana scorsa, vabbè domani uscirà il video recensione degli universi remake episodio 7 Tornoland parte 3 e poi Tedis si inquiosito e si spaventa e anche l'episodio 8 degli universi remake La casa dei fantasmi ma non voglio recensire Blui, Pupassetti e a tutto reality cartonico YouTube episodio 6 parkour estremo vabbè avete capito eh alla prossima con gli universi remake episodio 7 Tornoland parte 3 video recensione speriamo che a Natale o a Dicembre raggiungeremo quello di la vera storia di Pinocchio quando finisco di fare i video recensioni degli universi a Dicembre la vera storia di Pinocchio speriamo bene ciao a tutti